I lavori per la realizzazione della seconda linea del tram che collegherà la stazione di Padova con il quartiere di Volta Barozzo non si fermeranno. L'assessore alla mobilità Andrea Ragona e il presidente di APS Holding Giuseppe Farina, stazione appaltante dell'Opera, lo hanno confermato all'indomani della notizia che Anac aveva dichiarato illegittima la gara d'appalto dell'Opera. In una conferenza stampa APS Holding ha spiegato che non ci sono al momento provvedimenti che incidono sul contratto che era stato stipulato nel marzo del 2022. APS insieme a Palazzo Moroni sta già preparando le contradduzioni che verranno presentate all'Anac entro 30 giorni. La interlocuzione comunque è aperta da tempo, abbiamo già avuto modo di spiegare la regolarità della procedura ancora fardata da luglio dell'anno scorso e siamo fermamente convinti della legittimità degli atti assunti, oltre che del fatto che l'Opera può proseguire regolarmente perché nessun rilievo di legittimità è da noi ravvisato. Quindi noi andiamo avanti sia sul piano dell'esecuzione dell'Opera sia anche sul piano dell'interlocuzione. APS è sempre stata una casa di vetro, ha spiegato il Presidente, e con l'autorità nazionale anticorruzione c'è sempre stato un dialogo aperto in questi mesi. Anche l'assessore alla mobilità Andrea Aragona cerca di smussare la preoccupazione dopo la notizia. L'Opera in città è attesa da molto tempo e dovrebbe concludersi entro due anni. La comunicazione che ci è arrivato da ANAC in realtà non parla nemmeno della gara ma della giudicazione e non si tratta di una sentenza, si tratta di una comunicazione che ci viene fatta, ci vengono fatti alcuni rilievi ma non blocca a nulla. Quindi noi nella piena collaborazione con l'autorità, con l'ANAC, che è un'autorità molto importante nel nostro paese, per cui noi abbiamo già collaborato con loro e continueremo a collaborare, forniremo i nostri rilievi ma convinti di essere stati nel giusto nella gestione del denaro pubblico.